Eccoli sono arrivati finalmente i prodotti dall'America in America, molto contenta perché mi mancavano molto. Questa è l'Arginina, è un amminoacido che io adoro, l'ho sempre consigliato da almeno 15-20 anni ed è un amminoacido essenziale perché ancora consuma proteine animali, lavora molto bene su muscoli, cuore e organi genitali maschili, però non lo diciamo a tutti, è un prodotto fantastico, lui non ne fa mai a meno e io pure, ogni tanto lo prendo. La mia aloe preferita, eccola, eccola, io ti riesco a tirarla fuori, questa è la mia aloe preferita, eccola qua, aloe alla pesca, quante buona non avete idea, questa almeno un bicchiere al giorno assolutamente necessaria. Questo è il mio preferito. Anche tuo? Sì. Ah che bello, beh non ti piace più l'Arginina a te? Beh è diverso, non sto parlando di aloe. Ah ok, poi questa invece l'aloe è normale, la vera gel, quella che è molto disintossicante per cui non manca mai, perché questa è fantastica anche, non so, una cerina particolarmente ricca, prima di andare a letto un terzo di bicchiere, due o tre misurini, insomma un pochino di questo aiuta proprio a pulire. Pensate che noi l'aloe la mettavamo, ti ricordi Greg, nei saponi che facciamo da soli ovviamente, perché scioglie tantissimo i grassi, scioglie tantissimo lo sporco, quindi bere l'aloe va proprio a pulire dentro, a portar via adattogena, quindi va a portar via tutte le molecole tossiche. A pulire i tubi. A pulire i tubi, sì. Poi abbiamo il term, il term è un acceleratore metabolico importantissimo, questo è qui per lui che non per me, perché io francamente non ne ho bisogno, per fortuna. Questo che? Questo è il lin, è uno sciogli grasso, neanche io ne ho bisogno, questo è di Greg sempre. Non direi niente. E poi abbiamo il Move, adoro il Move, il Move è veramente un prodotto straordinario che riesce a togliere qualsiasi tipo di dolore. Io prima usavo molto l'armica che è pure un ottimo prodotto, ma il Move è pazzesco, veramente addirittura meglio, quindi sono molto contenta, ce l'abbiamo sempre, lo usiamo tutti e due, se io che Greg. Poi abbiamo un altro term, la tisana Blossom Team, questa tisana, non si può fare a meno di questa tisana, è buonissima, è buonissima sempre, al di là proprio dell'utilizzo che se ne possa fare, che è una tisana antiparassitaria, ma noi la usiamo sempre, quindi è buonissima, ne abbiamo prese due, perché non ci deve mancare. Perché la bevo io tutto il giorno. Ecco, e anch'io la bevo tutto il giorno, ormai non riusciamo più bene su un'altra tisana che questa, perché è troppo buona. E poi abbiamo della nuova linea, un latte detergente, sono buonissimi i latte detergente della Forever, veramente. Migliori di questi, io ne ho trovati soltanto di quelli fatti proprio in casa dalle amiche del Sud America, da alcune amiche che hanno veramente imparato in certe civiltà molto in contatto con la terra, che fanno prodotti naturali. Mi piacciono tantissimo. E questa è una crema viso, quindi mi mancava una crema viso. Ok, bene, ciao.